vi faccio vedere i vari modi di tagliare e cucinare il plantano e questo è il primo modo tali proprio come i chips questo riesco a tagliare la pianta ok non facciamo in africa non riesco a usare ok questo è come french fries oppure come lì mi è venuto proprio grande tagliate in tre poi fate così ok ecco 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 C'è un po' di acqua. Grazie.